Educare, formare gli operatori sanitari per migliorare la qualità delle cure, ridurre errori medici ed elevare gli standard di sicurezza. Una mission portata avanti dalla direzione del Centro Mediterraneo di Simulazione Attiva presentata alla stampa. Si tratta di una delle strutture più avanzate d'Italia per il suo numero di attrezzature all'avanguardia. Cinque manichini adulti, una partoriente, un manichino infermieristico e cinque pediatrici. Quattro neonati sono gli strumenti utilizzati per educare e formare il personale sanitario, che consentono di sperimentare operazioni chirurgiche e manovre di primo soccorso che possono salvare una vita. Il Centro si rivolge ai professionisti della sanità, quindi prima di tutto i medici e gli infermieri, e poi anche gli altri professionisti, ma questi in maniera centrale, cioè quelli che hanno il contatto e il rapporto con il malato. Il Centro ha dimensioni, competenze, strutture, dotazioni, strumenti, attrezzature, tali da poter offrire servizi anche ad altre regioni, sia delle regioni italiane che altre regioni del Mediterraneo. Per questo la regione siciliana ha voluto mettere questo aggettivo Mediterraneo. Io penso che cambi molto perché è uno strumento proprio per la crescita, per lo sviluppo professionale del capitale umano del servizio sanitario. E il capitale umano notoriamente è la cosa più importante. La formazione acquista un rilievo importantissimo e lo acquista a Caltanissetta ed in Sicilia. Noi siamo consapevoli di dover operare da ore in poi, come stiamo già cominciando a fare, con le società scientifiche di carattere nazionale e internazionale, con una rete di operatori e di professionisti a cui vogliamo rivolgerci e che devono vivere. Io credo che noi ci riusciremo il CEME di siccome un loro centro, il centro della eccellenza nel cambio della simulazione medica. Circa 400 mila euro i fondi europei impegnati per la realizzazione del progetto, il cui obiettivo, come ricordato nella conferenza stampa di presentazione, è quello di creare una rete di collaborazione più ampia che possa coinvolgere l'intera regione e non solo. E' tutto questo grazie al ruolo centrale della formazione permanente. C'è un principio che vige nella medicina e nella sanità che mai la prima volta sul paziente. E quindi questo è il motivo per cui questo centro, che è il più grande in Italia, articolato con differenziate proposte e disponibilità, proprio con programmi di diversa problematicità, proprio perché coloro che sono gli interlocutori e che parteciperanno ai nostri percorsi di formazione, possono avere un quadro diversificato delle varie tipologie di criticità da affrontare nello svolgimento del proprio lavoro.